Ecco l'albero di Natale in Piazza Cavalli, davanti al municipio di Piacenza. È stato installato ieri. Si tratta di un cono di luci alto 18 metri che sarà acceso ufficialmente insieme alle luminarie domani pomeriggio alle 17 sulle note della Banda Ponchielli che arriverà di fronte a Palazzo Mercanti dopo essere partita alle 16 dai Giardini Merluzzo, attraverso Via D'Averi, Piazza Duomo, Via Chiapponi, Via Sant'Antonino, Via Felice Frasi e Via 20 Settembre. L'albero di luci, donato da Confindustria, resterà acceso dalle 17 a mezzanotte con il prolungamento orario nei giorni di festività. L'amministrazione comunale vuole porre una particolare attenzione alla sostenibilità sotto il profilo ambientale ed economico, così la scelta di sostituire un albero di luci al tradizionale abete fino alla riduzione delle ore di accensione delle luminarie per rispettare un contenimento dei consumi energetici. Non mancherà una giostra che funziona a pedali senza utilizzare energia elettrica e anche la pista di pattinaggio che per la prima volta proda nel cuore del centro storico con l'allestimento nel cortile interno di Palazzo Gotico. Sarà aperta tutti i giorni dalle 15 alle 19 a partire da domani, nonché nelle mattine di mercoledì, sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12.30. È realizzata in ghiaccio sintetico utilizzabile in qualsiasi condizione atmosferica e ha un impatto ambientale molto più ridotto di quelle tradizionali.